Calaio YouTube di Luigi D'Avo Franco Sacchetti e il 300 novelle in generale una lezione sulle novelle da 200 al 300 e poi ovviamente con un approfondimento su Franco Sacchetti è la lettura di una di queste novelle il cui protagonista è Bernabò Visconti, signore di Milano con un abate e un mugnaio insomma, parliamo un po' della novellistica fra 200 e 300 dobbiamo sapere infatti che anzitutto si erano diffuse già nel Medioevo oralmente molte storie, racconti, raccontini, novelle, aneddoti eccetera di vario genere possiamo essenzialmente ricordarne due tipologie quello degli exempla, cioè dei modelli morali e quindi sono delle storie le edificanti e quello dei fabliaux che invece sono storie popolari spesso divertenti, comiche o licenziose si tratta di una narrazione variegata di motti di spirito, di beffe, soprattutto i fabliaux fatti curiosi e dall'intenzione morale didascalica soprattutto gli exempla ma anche i fabliaux insegnavano ad essere accorti abbiamo un retroterra vario, variegato, ricco che comprende per quanto riguarda le novelle anche come fonti la novellistica araba e orientale che poi confluirà anche ovviamente nella raccolta famosissima delle Mille e una Notte la letteratura cavalleresca che si sta sviluppando nel frattempo come abbiamo ben studiato, letto l'epica carolingia quindi Chanson de Roland e il romanzo cortese e l'epica arturiana il romanzo ellenistico nel senso che le storie soprattutto per esempio le avventure di Alessandro Magno rappresentavano sempre anche qua una miniera di aneddoti storielle varie diciamo piuttosto interessanti sin dai tempi in cui poi furono messe per iscritto già nel mondo antico hanno costituito una sorta di precursore del romanzo moderno ma anche la storiografia di cui abbiamo parlato la volta scorsa le croniche le cronache di Dino Compagni e Giovanni Villani offrono spesso spunti diciamo di storie, di racconti di vario genere e di aneddoti narrazioni ampie e complesse con una spiccata vocazione al puro intrattenimento perché è chiaro evidentemente quindi il pubblico medievale delle piazze per esempio amava molto queste storie perché insomma si divertivano ad ascoltare a tramandare oralmente queste storie oralmente ecco parliamo adesso invece della scrittura di queste novelle il primo e più originale esempio di prosa narrativa è il novellino siamo nel 200 in Italia perché insomma l'Italia svolge un ruolo fondamentale per le origini della novellistica nelle letterature moderne il novellino è una raccolta di racconti di lunghezza tipologia argomento diversi di un autore fiorentino anonimo nella seconda metà del 200 i racconti hanno l'intento comune di fornire al lettore borghese un modello di vita vicino agli ideali cortesi ecco anche qua noi abbiamo già commentato insomma su youtube alcune novelle del novellino in un'altra classe in un altro anno scolastico dicevamo questo è già il primo esempio importante di antologia possiamo definirla così di novelle di raccontini dopodiché abbiamo il Decameron che approfondiremo nel diciamo nel secondo quadrimestre e infine dopo il Decameron abbiamo il 300 novelle di Franco Sacchetti che è vissuto più o meno dal 1330 al 1400 Sacchetti inserisce l'intervento diretto dell'autore che a fine racconto fornisce un ammaestramento sull'avvenimento narrato dettato dalla morale spicciola e dal buonsenso borghese in generale cioè spesso comunque risultano diciamo queste novelle di Sacchetti anche certe volte un po' appesantite da questo da questo commento morale che comunque era presente spesso anche nelle novelle di Boccaccio rispetto al Decameron di Boccaccio abbiamo un numero esoso di novelle 300 invece di 100 e soprattutto meno ordinate non c'è la cornice per esempio che rende così vario interessante il testo di Giovanni Boccaccio quindi non c'è la cornice non c'è un ordine però ripeto si tratta comunque di un testo che si pone sulla scia di quello che è stato il Decameron di Boccaccio che è stato un capolavoro ovviamente il destinatario ideale è lo stesso di Boccaccio c'è il pubblico borghese della sua epoca di media e buona cultura in grado di fruire in modo individuale e privato di un prodotto culturale senza la mediazione della narrazione orale in versi come accadeva invece per molta letteratura cavalleresca ma al tempo stesso non sempre in grado di comprendere il latino anche da questo punto di vista comunque c'è da dire che mentre la prosa del Boccaccio è una prosa che risente molto del periodare ciceroniano e in cui sono presenti molte subordinate quindi con uno stile ipotattico la prosa del Sacchetti è diciamo paratattica e quindi con tante coordinate e anche in questo senso quindi meno elaborata rispetto a quella del Boccaccio meno elaborata la sintassi così come era meno elaborata la struttura del libro quali sono gli elementi di novità? la prosa come forma direi ecco perché come stavo spiegando prima pensiamo anche ai romanzi romanzi cortesi romanzi ellenistici c'era il romanzo de Troie c'è il romanzo del insomma della guerra di Troia in lingua d'Oille poi c'era il romanzo d'Alessandro poi c'erano tutti i romanzi cortesi che abbiamo studiato all'inizio dell'anno scolastico di Crétien de Troie che erano tutti quanti comunque inversi per non parlare della chanson de Roland invece qua abbiamo la prosa il volgare come lingua anche questo è importante la varietà degli argomenti l'abbandono dell'insegnamento morale non c'è sempre però questo abbandono è perché ovviamente nei testi ageografici quindi religiosi gli esempla c'era questo insegnamento e qui non è detto che ci sia però c'è una morale diversa semmai ci sono dei valori diversi da portare avanti e da verificare insomma nella vita nell'esperienza di tutti i giorni le ambientazioni spaziali e temporali sono sempre più definite i personaggi sono sempre più complessi articolati e sfumati questi elementi di novità li dobbiamo pensare e li applicheremo come vedremo soprattutto comunque a Giovanni Boccaccio è il momento adesso di leggere questa novella di Franco Sacchetti Bernabò Visconti Labate e il Mugnaio come vedete queste prime tre righe sono in corsivo perché ci presentano in un certo senso la rubrica così le chiamerà infatti Boccaccio nel suo Decameron i brevi riassunti gli abstract posti all'inizio della novella in cui spesso si fa spoiler diciamo così cioè si anticipa quello che è il contenuto principale della novella stessa in questo caso per esempio Sacchetti scrive Messer Bernabò signore di Melano Milano comanda a uno abate che lo chiarisca di quattro cose impossibili di che uno mugnaio vestitosi dei panni dell'abate per lui le chiarisce in forma che rimane abate lui il mugnaio diventa abate quindi rimane abate perché si era travestito da abate ma adesso lo diventa sul serio mentre l'abate rimane mugnaio nel senso che viene declassato ovviamente l'abate oltre a essere insomma il capo di una comunità monastica era un proprietario terriero importantissimo di un certo rilievo appartenente a una classe sociale ben più elevata rispetto al mugnaio ma qui si opera un cambiamento di classe sociale questo è un aspetto fondamentale su cui riflettere perché la novellistica sia quella di Sacchetti sia quella di Boccaccio ci mostra la possibilità in questi secoli il 200 e il 300 di una certa mobilità sociale la società non è del tutto statica e l'ingegno certe volte può portare a come dire improvvisi e inaspettati salti di classe Messer Bernabò signora di Melano essendo trafitto da un mugnaio con belle ragioni gli fece dono di grandissimo beneficio ah sì anche questa è un'ulteriore diciamo sintesi di quello che poi verrà spiegato ulteriormente nel corso della novella questo signore nei suoi tempi fu ridottato da più che altro signore cioè questo signore Bernabò visconti fu ritenuto adotto e quindi fu stimato da più che altro signore si riconosceva insomma la sua arguzia la sua intelligenza e come che fosse crudele e anche se era crudele pur nelle sue crudeltà avea gran parte di giustizia riusciva a far coesistere la crudeltà con cui trattava certe volte i suoi sottoposti con una certa dicevamo intelligenza o capacità di discernimento fra molti dei casi che gli avvennano fu questo che un ricco abate avendo commesso alcuna cosa di negligenza di non aver ben notricato due cani alani che erano diventati stizosi ed erano del detto signore gli disse che pagasse i fiorini 4.000 ecco che evidentemente una delle bizzarrie di questo signore di Milano il Bernabò Visconti era quello di avere dei cani di essere molto affezionato a loro e quindi dal momento che questi cani sono stati trattati male dall'abate chiede all'abate di pagare una multa salatissima di 4.000 fiorini di che l'abate cominciò a domandare misericordia cioè chiedeva che gli fosse abbonata questa multa e il detto signore reggendola domandare misericordia gli disse se tu mi fai chiaro di 4 cose io ti perdonerò in tutto allora Bernabò Visconti sta al gioco con l'abate e gli dice senti io adesso ti pongo 4 interrogativi se tu sei in grado di risolvere questi enigmi allora io ti condonerò la multa e le cose sono queste che io voglio che tu mi dica 1. quanto ha di qui al cielo quanto spazio c'è potreste misurare quanto spazio c'è da qui al cielo poi ancora 2. quant'acqua è in mare sai misurare quant'acqua c'è nel mare 3. quello che si fa in inferno 4. è quello che la mia persona vale lo abate ciò udendo cominciò a sospirare si tratta ovviamente di domande fatte ad hoc perché è impossibile dare una una risposta precisa a queste domande e parlo di essere a peggior partito che prima l'abate è tristissimo perché perché queste domande appunto non sa non sa minimamente come rispondere a queste domande e quindi pensa che la situazione sua non è migliorata anzi forse è peggiorata ma pur per cessar furore e avanzar tempo disse che gli piacesse dargli termine a rispondere a sia altre cose che dice al signore avrai bisogno solamente di un po' di tempo per rispondere a queste domande e il signore gli diede termine tutto il di sequente e quindi Barnabó conti da un giorno di tempo ad abate per rispondere a queste domande e come vago d'udire il fine di tanto fatto gli fece dare sicurtà del tornare non ti preoccupare tu puoi tornare e non ti sarà fatto niente però ritorna con le risposte l'abate pensioso con gran malenconia molto attristato comunque perché ha capito che il signore l'ha ingannato tornò all'abadia cioè praticamente all'abbazia diciamo soffiando come un cavallo quando a ombra sospirando insomma però dice in maniera abbastanza comica come un cavallo e giunto là scontrò un suo mugnaio cioè incontrò si scontrò nel senso si incrociò ecco con un suo mugnaio che ovviamente era sottoposto all'abate il quale veggendolo così afflitto disse signor mio che avete voi che voi soffiate così forte rispose l'abate io ben di che che il signore è per darmi la malaventura se io non lo focchiaro di quattro cose che Salamone né Aristotele non lo potrebbe fare ecco noi che conosciamo il Decameron abbiamo in mente tante novelle come Melchisedec una di Melchisedec di Abram Giudeo insomma soprattutto all'inizio del Decameron insomma in cui ci sono di questi trabocchetti e tranelli di signori no in cui occorre poi diciamo rispondere a domande molto molto insidiose ma appunto se una persona astuta è in grado anche di affrontare queste situazioni così pericolose ecco ovviamente Salomone e Aristotele sono un modello per il tempo di saggezza sapienza Salomone e di filosofia Aristotele il mugnaio dice e che sono queste cose l'abate glielo disse cioè gli riferì quali erano allora il mugnaio pensando dice l'abate io vi caverò di questa fatica se voi volete dice l'abate Dio il volesse magari tu fossi in grado di risolvere queste quattro questioni dice il mugnaio io credo che vorrà Dio e i santi non ti preoccupare lo vuole Dio lo vogliono anche i santi ecco è ovviamente abbastanza ironica questa espressione perché in realtà poi la risoluzione è tutto frutto scusate del sale in zucca del mugnaio anche in questo dobbiamo ricordare qualche cosa che ci rammenta anche boccaccio cioè che spesso la gente del popolo si mostra molto intelligente molto furba molto astuta e questo permette loro appunto di affrontare situazioni difficili pericolose e magari come vi ho già detto di conseguire un miglioramento della loro condizione come avverrà adesso a questo mugnaio l'abate che non sapea dove si fosse disse se tu fai se tu lo fai da me ciò che tu vogli che in una cosa mi domanderai che possibile mi sia che io non ti dia togli da me scusate cioè se tu riesci a fare questa cosa togli da me vuol dire prenderai da me tutto quello che vuoi e non ci sarà nessuna cosa che tu mi domanderai mi chiederai che sia possibile insomma darti che io non te la dia disse il mugnaio io lascerò questo nella vostra discrezione cioè poi dopo se la cosa va effettivamente come io penso e spero lascerò a voi la discrezione diciamo cioè capire come venire incontro ai miei desideri o che modo terrai disse l'abate allora rispose il mugnaio io mi voglio vestirla la tonica alla cappa vostra e raderommi la barba e domattina ben per tempo anderò dinanzi a lui cioè andrò davanti al signore Milano a Barnabò Visconti dicendo che io sia l'abate e le quattro cose terminerò in forma che io credo farlo contento ecco adesso non abbiamo il tempo per leggere tutta quanta la novella però il mugnaio come abbiamo visto ha chiesto all'abate di potersi travestire da lui e lui riesce a travestirsi riesce a nascondere in un primo tempo la sua identità ma poi il signore Bernabò Visconti alla fine si accorge che non è l'abate anche perché aveva intuito che l'abate non sarebbe stato assolutamente in grado di risolvere gli enigmi e quando invece il mugnaio riesce a farlo Bernabò Visconti lo ricompensa come abbiamo già detto facendolo diventare lui abate al posto di quello là che diventerà da quel momento in poi mugnaio come il mugnaio riesce a risolvere gli enigmi ma lo possiamo vedere qua per esempio per esempio quanto ha di qui al cielo cosa dice il mugnaio veduto appunto ogni cosa egli di qui lassù 36.854.072.500 e 22 passi a che dice il signore Bernabò Visconti tu l'hai veduto molto appunto ma come provi tu questo e rispose fatelo misurare se non è così impiccatemi per la gola con lo stesso marchigegno intellettuale il mugnaio riesce a risolvere anche il secondo enigma quant'acqua in mare sono 25.982 di milioni di cognac che è una unità di misura e 7 barili e 12 boccali e 2 bicchieri e il signore dice come il sai l'ho veduto e meglio che ho saputo se non lo credete fate trovare dei barili e misuri si misuri poi ancora il terzo enigma mi domandaste quello che si faceva in inferno in inferno si taglia a squarta a raffa e in picca né più né meno come fate voi qui ecco qui sottile ironia del mugnaio che rinfaccia al signore di essere crudele che ragione rendi tu di questo come fai a dimostrare rispose io faverlai già con uno che vi era stato nell'inferno e da costui ebbe Dante Dante Fiorentino addirittura secondo questa versione del mugnaio Dante Fiorentino avrebbe saputo come è fatto l'inferno da questo testimone che anche il mugnaio stesso ha sentito raccontare no però dice purtroppo poi questo testimone è morto se non lo credete mandatelo a vedere se non credete a quello che dico io andate dal morto e chiedetelo a lui anche questo ovviamente è impossibile quarto mi domandaste quello che la vostra persona vale io dico che ella vale 29 danari a questo punto il signore è indignato come 29 danari solamente 29 danari e si perché il mugnaio dice è vero o non è vero che Cristo è stato venduto per 30 danari bene allora io ritengo che voi che come tutti noi siete un pochettino meno rispetto a Cristo che è figlio di Dio variate un denaro in meno 29 invece di 30 e insomma con queste arguzie il mugnaio riesce a meritarsi la stima del signore che come abbiamo detto poi ricompensa il mugnaio con questa nomina ad abate e quindi anche in questo caso come nei casi di tante tantissime novelle di Giovanni Boccaccio con il proprio ingegno l'uomo può cavarsi da situazioni complicate anzi trovare miglioramento e giovamento dalle risposte argute che è in grado di dare qui ci vengono in mente soprattutto le novelle della sesta giornata che è la novella dei motti cioè di queste risposte argute insomma che permettono dicevamo anche a tanta gente del popolo delle classi più umili di accedere poi a livelli più elevati di conversazione di amicizia e quindi di classi sociali altri video didattici su a tuttascuola punto it a a a a a